Ben ritrovati amici in un nuovo video delle nostre diavolerie elettroniche oggi vediamo un altro tentativo ibrido di collegare dispositivi vecchi con dispositivi nuovi quella che vedete qui è veramente un gioiello perché è una videocamera degli anni 80 quindi parliamo di 40 anni fa che registra su VHS Compact e che funziona ancora perché io ho delle cassettine ho fatto anche delle riprese ho ripreso il mio paese utilizzando questa GVC e dopo le ho trasformate e digitalizzate potete trovare il video della ripresa che ho fatto del paesino di Moggio con questa videocamera è un gioiello perché funziona ancora nonostante quasi mezzo secolo di vita funziona benissimo dicevo ovviamente la risoluzione non è quella dei dispositivi di oggi però funziona e l'ho collegata con un procedimento che abbiamo già visto in un altro video ovvero sia collegando i cavi analogici giallo e bianco con il nostro dispositivo USB 2 Grabber che avevo già avuto modo di farvi vedere questo qui e utilizzando il programma di acquisizione video OBS si può vedere quello che vede la videocamera ecco qui si può vedere nel programma di acquisizione video OBS dopo aver messo nei dispositivi di cattura USB 2 Grabber che sta in questo momento leggendo l'ingresso video di questa GVC si può quindi acquisire e vedere in tempo reale quello che sta guardando la telecamera adesso guardo la telecamera mi avvicino così voi potete vedere eccomi ciao ecco qua sono io e naturalmente si può qui far partire la registrazione e acquisire in tempo reale quello che la videocamera sta riprendendo e di conseguenza noi possiamo utilizzare questa videocamera anche come per fare degli streaming quindi anche come telecamera per fare delle videochiamate o delle dirette online la cosa è impressionante se si pensa come dicevo che questo gioiellino qua guardate com'è particolare enorme la borsa che contiene tutta la batteria qui l'ho collegata a batteria con la sua vecchia batteria della GVC è enorme però insomma 40 anni fa funzionava benissimo ed era all'avanguardia anzi adesso facciamo una piccola prova di registrazione dove do un saluto e poi vi faccio vedere come è venuta la registrazione dando il saluto qua vediamo quindi ciao a tutti questa è una registrazione di prova che sto facendo dopo aver collegato una videocamera degli anni 80 una GVC al PC attraverso una conversione da analogico a digitale e quindi sto utilizzando questa videocamera che ha quasi mezzo secolo di vita e in tempo reale e sto registrando quello che sto dicendo sul PC in streaming come appunto se fosse una webcam vediamo quindi come si vede va bene